Alessandro Pompei, l'assessore comunale di Montesilvano allo sport, questi tre giorni dal 31 al 2 giugno saranno molto intensi ma soprattutto porteranno in questa struttura tanti giovani, tante squadre. Sì, siamo molto soddisfatti di aver intercettato questa competizione soprattutto in questo momento perché ci accingiamo a inaugurare nuovamente la nuova gestione del Palaroma e lo facciamo anticipandoci con questa importante manifestazione di futsal, quindi ospiteremo dal 31 al 2 16 squadre Under-19, 8 maschili ed 8 femminili che si contenderanno il titolo di campione italiano calcio a 5 Under-19. È un'occasione importante perché la divisione Calcio a 5 Italia ha scelto nuovamente Montesilvano come sede di questa manifestazione, gli atleti che verranno in città saranno oltre 500 e questo è anche strategicamente interessante dal nostro punto di vista per quello che riguarda il turismo sportivo e il rilancio sportivo degli impianti in città perché ci colloca nuovamente all'interno di un palcoscenico nazionale di prestigio importante su cui noi puntiamo molto. Ecco Assessore, teoricamente ma anche praticamente da giugno su questi spalti ci potrebbe essere anche una parte di pubblico? L'auspicio è quello, non sappiamo se già sarà possibile dalle final 8, quindi dal 31. Comunque l'impianto ha una capienza di 2.000 spettatori che con le attuali restrizioni ci permetterebbe comunque di poter ospitare circa 250 persone che per ripartire è una cifra più che dignitosa. Noi insieme alla nuova gestione stiamo lavorando in questo senso e speriamo che per le manifestazioni a seguire potremo tornare a riempire di colore e vita anche il Palaroma.